Ehi, che vai facendo? Torna in camera che hai scelato di lato! Che è stato? Vado! Ti rivolto! Passo in camera! Passo in camera! Non ci ha capito niente, niente, niente! Molto vero quello che è la democrazia! Ladri, ladri, insiusi e corrotti, tutti corrotti come agli belli tempi quando ci stava Monsignor! Ma ora mi neanche chiede quello che è la democrazia, quello che pur di ha comandato! Io lo dico io, a me mi dicono, matto, matto perché parlo da solo, matto perché ce l'ho con tutti, matto perché parlo sopra una segna! Quando li metti d'accordo a tutti questi, quando a tutti questi comunisti, quando ce li metti d'accordo? Io lo dico io, non c'era la passa di parlare un burro dagli tedeschi! Guardi, li ha presso agli tedeschi, dopo chi è lo matto? Chi è lo matto? Eh, fortuna, la fortuna nostra è Maria Maria, che brava persona! Ce lo dà gli americani, gli americani ce lo dà il potestà, allora è contenti perché venne, basta che venne gli americani! E è contenti! Eh Dio, ma a proposito di fortuna, se vogliamo parlare di fortuna, se la fortuna nostra è Maria, la fortuna è Maria, sono i predi! I predi, i predi! Quindi l'ha sempre coperto, sempre con le sottane, sempre coperto! Perché con tutti i debiti che si è trovati! Quindi potete stare sicuri, sicuri certi, non casca mai! Mai! Ma manco se casca! Ehi, che mi face? Tornangano, che è quella di un'altra! Che sta a tua? Tutti qua, torna da che è! Vai succare! Ma, donna, non fugga, non fugga, non fugga, non fugga, non fugga, non fugga, non fugga! Non fugga, non fugga, non fugga, non fugga! Ma, non fugga! E' un tedeschi, e' un tedeschi! Cosimo! Ma che fai facerne? Che vuoi, mennega, che vuoi? E lascia perdere, che l'ordine morto che si è uscito con l'ufficina sulle ma, si è tornato tre anni dopo, con le purgie e che tre mamme! Se donne che leggo!